Alle 8.30 di questa mattina incidente stradale tra una bicicletta e uno scooter lungo la via Flaminia all'altezza dell'incrocio con via Forcolo. Dai primi accertamenti ancora in corso la bicicletta che proveniva dal mare nel tentativo di svoltare a sinistra non ha dato la precedenza allo scooter che proveniva da Monte e che non ha potuto evitare così l'impatto con la bicicletta. Lo scooter era condotto da un uomo di 39 anni residente a Massa Carrara mentre sulla bicicletta si trovava una donna di Fano di 36 anni. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per le conseguenze dell'impatto. Tuttora si trovano al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano per accertamenti ma le loro condizioni non sembrerebbero essere gravi.